E' partita oggi 15 ottobre la campagna vaccinale delle Marche che anche quest'anno prevede la possibile cosomministrazione gratuita di vaccino anti-influenzale e anti-covid-19 aggiornato alle ultime varianti. Essendo l'influenza una patologia stagionale, ogni anno cambiano i vaccini, mentre quello anti-covid che è disponibile tutto l'anno diventa particolarmente raccomandato nel periodo autunno-inverno per un'infezione che resta quanto mai presente. Ci si può vaccinare presso i medici di medicina generale, i servizi vaccinali dell'Ast con accesso presso gli ambulatori vaccinali, suo appuntamento, prenotazione al CUP e nelle farmacie aderenti alla campagna. E' una campagna estremamente importante a supporto e a sostegno di quella che già fanno i medici di medicina generale, anzi da quest'anno le farmacie saranno distributori anche per i medici di medicina generale che dovranno fare i vaccini e che vorranno fare i vaccini dalle dosi loro necessari. Noi come farmacie comunali di Pesaro lo effettiamo la prenotazione in tutte le farmacie della città e quindi in tutte le nuove farmacie, però la facciamo nella farmacia di Soria e nella farmacia di Via Giolitti e a Gabice nella farmacia comunale di Gabice. E' importante dire che lo facciamo su prenotazione perché il vaccino entro 24 ore arriva ed è disponibile insomma per l'utente, i nostri farmacisti nelle farmacie indicate sono tutti i farmacisti vicinatori che hanno fatto il corso apposito appunto per poterlo diventare e già dalla pandemia in avanti insomma cerchiamo di dare questo servizio che va ad aggiungersi a come dicevo prima a completamento di quello che è il ruolo dei medici di medicina generale e diciamo che i risultati sono stati positivi negli ultimi anni perché l'obiettivo è quello di alzare il numero di vaccinati e quindi fare in modo che insomma le varie tipologie di malattie che ci possono incorrere su cui il vaccino poi può fare effetto siano regolamentate, siano tenute sotto controllo e ci siano meno accessi agli ospedali, meno accessi ai punti di servizio della salute.